Nella serata di venerdì 2 giugno è stata sottratta una reliquia appartenente a Don Bosco che era custodita nella basilica inferiore del collo Don Bosco dove ci troviamo. Attualmente non possiamo fornire altre indicazioni per non compromettere quelle che sono le indagini della polizia che sono indagini in corso. Quello che possiamo riportare è il messaggio che ha voluto lasciare ai fedeli il rettore della basilica Don Ezio Orsini. Innanzitutto la vicinanza nel dolore per tanti pellegrini che si sentono feriti da questa sottrazione indebita. E una considerazione più generale che ci affidiamo con la preghiera a Don Bosco perché esattamente come nel passato è riuscito a convertire, a trasformare la vita di tanti giovani magari possa mettere anche un piccolo granellino di dubbio e convertire il cuore di chi ha sottratto un suo segno della presenza in mezzo a noi. E d'altra parte una considerazione, quella che è vero si può sottrarre una reliquia di Don Bosco ma ai salesiani, alla famiglia salesiana, ai pellegrini che qui continuamente accorrono non si potrà mai sottrarre Don Bosco. Quello resta vivo con il suo messaggio di continuiamo a educare i giovani.